Secondo voi è davvero così difficile essere un dio? Qua siamo tanto per cambiare nello sporco schifoso, nell'erciume tangibile e nauseabondo, ma anche in un'opera d'arte immensa elogiata addirittura da Umberto Eco. Un film che ricrea un medioevo alternativo in cui il rinascimento mai arriverà, in cui gli artisti sono messi alla forca, e la sporcizia, l'ignoranza e la violenza regnano sovrani. Una visione che porta lo sguardo dello spettatore a stancarsi, a non poterne più, insomma un film estremo da ogni punto di vista. Forma e contenuto si mescolano con saliva e merda per regalarci questo assurdo capolavoro del cinema contemporaneo. Sto parlando di Hard to be a God, di Alexei German. Buongiorno a tutti e bentornati a Cinema degli Eccessi 2. Prima di cominciare volevo solo comunicarvi che quando l'11 maggio, l'11 maggio sarò al salone... L'11 maggio, sabato 11 maggio sarò al salone del libro di Torino a firmare il libro allo stand di Arisa Edizioni, ad abbracciarvi e portatemi da bere e si festeggia il nulla, perché non va sempre bene festeggiare. Oggi si parla di un film chiesto e richiesto ormai da anni e anni, dai tempi del primo cinema degli eccessi. Vuoi per la sua natura immonda, vuoi per cercare insieme di capirci qualcosa in più. Perché sì, Hard to be a God è ostico, difficile, per molti versi, inaffrontabile. Il regista Alexei German combatte da tutta la vita con la censura e il buon costume, in particolare con la censura e il buon costume sovietici, che non è esattamente facilissimo, ma in realtà mondiali, visto che la sua idea di cinema, fin dalla sua genesi, si scaglia contro l'opera confezionata e di consumo. Per lui chi fa cinema deve attaccare il conformismo, lottare e distinguersi. E Hard to be a God ne è piena testimonianza, un po' troppo. Un'opera che voleva fare da tutta la vita, figuratevi che la prima sceneggiatura risale al 1968, e che purtroppo il regista non vedrà nemmeno conclusa, perché è morto prima del montaggio finale, che poi sarà portato a compimento dalla moglie e dal figlio. Ma di cosa parla Hard to be a God? Boh, di tutto? Lo scibile umano? E non so di cosa parla Hard to be a God, pariamoci il culo così dicendo che parla di tutto lo scibile umano, ma è difficile persino delinearne una trama. Sappiamo che siamo nel futuro e il protagonista è Don Rumata, terrestre, trasferitosi sul pianeta a Arcanar, luogo fermo al Medioevo, dove prova disperatamente a portare sapienza e cultura e pensiero al popolo, sconvolto dalla violenza e dalla bruttura. Ma tutto ciò sembra davvero impossibile. Tutti, dai regnanti, dai superiori agli stessi abitanti, gli impediscono di perseguire la sua nobile missione a suon di rutti e di scoregge. Natale ad Arcanar. Cioè, no, film di... Cerchiamo di dare un senso generico all'opera, perché poi ogni dialogo e ogni scena andrebbero presi e analizzati a parte, ma mica abbiamo tutto il tempo del mondo. E ammetto che questo film mi mette in difficoltà come metterebbe in difficoltà chiunque. Riguardando il film di German, per scrivere questa recensione mi è subito venuto in mente un autore letterario tra i più celebri di sempre, ma che a me non piace proprio per nulla. Il nome completo lo dice Simo. Jorge Francisco Isidoro, Luis Borges, anche vado. Anche vado della Vega. Ciao, Ole. Della Vega. Della Vega, Borges, per gli amici Borges. Come Dimo. Dimo Borges. Ho letto solo l'Aleph e proprio non mi ha ne preso ne colpito, cosa che invece ha fatto abbondantemente il film di German. Ciò che vedo in comune tra le due opere è la creazione di un universo o altro, simile al nostro, in cui il lettore non necessita di alcuna premessa. Siamo già lì, a contatto con tutta la storiografia del luogo, non c'è bisogno del il mondo è cambiato, lo sento nell'acqua, niente di niente. I racconti dell'Aleph paiono resoconti conseguenti a indagini etnografiche di mondi tanto altri quanto nostri, che è ciò che è R2B e God. Cambiando linguaggio dalla letteratura al cinema, il film però ci immerge in uniket nunc, grazie anche alla tecnica cinematografica del regista che tratta la macchina da presa come una persona che vaga e segue Don Rumata, e quella macchina da presa siamo noi. Una ripresa simile mi viene in mente Von Trier, immersa nella contemporaneità, ha un certo senso, una presenza storica, certa che nel suo dramma ci rende testimoni della crudeltà odierna. In German siamo testimoni di una bruttura alternativa, il nostro sguardo dunque progredisce direttamente dentro una storia alternativa, così che la macchina da presa diventa il senso stesso di ciò che stiamo guardando, qualità che il cinema commerciale, quello da cassetta, non ha. A meno che non si parli di autori molto attaccati alla teoria, e sono davvero pochi, mi viene in mente un Jordan Peele, in particolar modo tra l'altro nel suo ultimo film, Oshamayan, che come in Bussan alla Porta lo rende implicito, o come in The Visit lo rende esplicito, valicando un po' e superando i limiti del mockumentary. A rendere immensa l'esperienza di Art To Be A God è senza dubbio la prospettiva, è come se camminassimo all'indietro e Don Rumata ci venisse incontro. Lo precediamo, ma in realtà seguiamo lui, il nostro sguardo è fisso, a cono stringente sulla sua figura, sulla sua... a cono stringente. Non ci posso credere! Dicevo che è fissa a cono stringente sulla sua figura, sulla sua strada, sul suo sentiero, nella sua esperienza, donandoci non tanto lo sguardo sugli altri personaggi, ma la sua totale fisicità. Per questo il senso di sporcizia lo sentiamo addosso molto più che in altri film. Il fango, le scoreggie, gli sputi, li affrontiamo con la fisicità di Don Rumata. Matteo Marelli, che non è quello di... non è Mimmo, a me è Mimmo... Mimmo Marelli! Non è lui! Ecco di Arno! Esatto! Alla corsa! E German Mucciacossa. Matteo Marelli, degli spietati.it, osserva come la prospettiva nel film sia pre-rinascimentale, poiché il rinascimento nel film non è mai arrivato. Ancora una volta il linguaggio e la tecnica si fanno significato, che è come dovrebbe essere. Prima del rinascimento prendiamo come esempio l'arte bizantina, che qui abbiamo un esempio di arte bizantina. Di là! Non si utilizzavano regole geometriche precise per la rappresentazione. Raffaello e Brunelleschi sono andati avanti, rendendo la proporzione fondamentale per la prospettiva. Basta guardare l'ospedale degli innocenti di quest'ultimo. Se registi come Kubrick fanno della prospettiva post-rinascimentale una cifra stilistica, German lo fa di quella pre-rinascimentale, con i limiti ovviamente che ci sono della rappresentazione cinematografica, che per sua natura rispetta la geometria naturale delle cose, a meno che uno non faccia animazione. E a meno che non si usi un fisheye, o altri tipi di lente che distorcono lo spazio. Lo sguardo non è portato all'estremo solo dalla prospettiva e dal contenuto sceno, ma anche dalla durata. Quasi tre ore che stancano, affaticano, turbano. La volontà del regista è proprio quella di regalarci un'esperienza altra, diversa da qualsiasi altro film, ostica, difficile da sopportare, non noiosa ma pesante, che porta appunto al limite estremo lo sguardo dello spettatore. La durata di un film è indubbiamente un elemento fondamentale per l'esperienza cinematografica, anche per il mero atto del guardare. Non sto parlando degli sguardi narrativi di Scorsese, in cui le quattro ore sono riempite da eventi e storiografia fatta e finita, che però non è ricerca etnografica nel presente, e nemmeno nella formale ricerca reale e del trascendentale di Bellatar. Siamo più dalle parti delle sfide waroliane, che so che sono due tipi di cinema completamente diversi, ma la sfida al nostro sguardo è la medesima. Aggiungiamoci anche un bianco e nero che a volte è bianchissimo, accegante, che stranamente è in modo fuori dal comune rende ancora più realistica la falsa storiografia narrata. Come se effettivamente quella realtà fosse vicina a noi, talmente vicina, da poter essere ripresa, da essere credibile in bianco e nero, esattamente come un documentario dell'Istituto Luce. Uno dei temi fondanti del film è infatti anche l'attinenza della realtà, è lo sguardo di German sulla nostra realtà e sul cinema contemporaneo, quello che lui cerca di combattere. Questo film è guerra aperta al blockbuster, perché di fatto è un colossal, e ci mostra come dovrebbero essere usate le risorse per fare un colossal. E spoiler, secondo German non è tanto da usare per riprendere Spider-Man e Superman. È come se German ci dicesse che ci siamo talmente involuti artisticamente che sembra che il Rinascimento non sia mai arrivato e che quelli che proveranno a farci qualcosa saranno comunque pochi e saranno bloccati sia dal potere che dal popolo, dal pubblico. Come abbiamo detto nell'introduzione del video, ne ha scritto anche Umberto Eco, tra i più grandi intellettuali contemporanei, che nel suo articolo scritto per la festa del cinema di Roma ci suggerisce un paio di cose utilissime per la comprensione e la non comprensione di Art to be a God. Le accenna solamente, ma noi ora vediamo di approfondirle un po'. Innanzitutto ci dice come esistano due tipologie di lettori, quello di primo livello, che vuole sapere i risvolti della trama, e quello di secondo livello, che una volta svelata la trama si interessa delle tecniche narrative e stilistiche che hanno contraddistinto l'esperienza di lettura. Eco ci dice anche come lo spettatore di Art to be a God è come se rimanesse intrappolato nel primo livello, continuando a cercare una storia, a cercare dei fatti ma senza successo. Approfondiamo un attimo, nel film il nostro sguardo è perennemente ipnotizzato dallo schifoso e iperdettagliato mondo creato da German. Ma perché non riusciamo a uscire dal primo livello, attendendo per così tanto che accada qualcosa? Innanzitutto perché ce lo aspettiamo, sappiamo che sarà così, e per tutti i 170 minuti lo pretendiamo, anche perché attraverso parole e dialoghi tra Rumata e vari personaggi creano davvero un universo e una serie di eventi. Ma la trappola di German, che si svela solo a una seconda visione, è proprio quella della prospettiva. Noi guardiamo perennemente al protagonista e non al percorso che ha appena fatto, non abbiamo modo di guardare a quello che farà, è davvero difficile seguire il suo sguardo, e dunque rimaniamo intrappolati proprio nel primo livello, come dice Eco. Altra riflessione di Eco è quella sul verfremdung, ovvero lo straniamento brechtiano, ma precedente, teorizzato da Sklovski. Nell'articolo però non si approfondisce, quindi vediamo di farlo insieme, anche perché noi ce la meniamo talmente tanto da dover approfondire qualcosa che ha scritto Eco, talmente ce la meniamo. No! No, ma non si può dire lo sguardo. L'idea di teatro e di straniamento di Brecht avviene, per esempio, nel fatto che l'attore non debba immedesimarsi nel personaggio, ma rappresentarlo perché lo spettatore deve essere cosciente di percepire l'artificio e dunque l'arte, cosa che per esempio utilizzerà Pasolini nel suo salò. E a proposito di Pasolini, quel che non capisco è perché Eco abbia preso Brecht e non Pasolini, visto che ha completato la teorizzazione del verfremdung. Il linguaggio cinematografico ha molti più filtri del teatro, è una comunicazione molto più costruita, dunque per Pasolini lo straniamento deve avvenire facendo percepire allo spettatore la presenza della macchina da presa. E German questo fa, nonostante sia un contesto storico in cui la macchina da presa non può esistere, lui la utilizza facendola percepire in ogni secondo. Per questo siamo straniati dall'essere testimoni oltre schermo della fittizia storicità degli eventi. È il cinema di poesia, mediato da un linguaggio cinematografico visibile e percepibile. Sentite prima cosa dice German e poi cosa dice Pasolini. Dalla mia esperienza di lavoro nel cinema ho tratto la ferma convinzione che un film si possa realizzare solo se si mantiene sempre una posizione di attacco contro i prodotti preconfezionati, la menzogna travestita da verità, il cattivo gusto, il conformismo, l'autocompiacimento. E dobbiamo attaccare con l'arma di un'idea l'idea che vogliamo esprimere. Ecco, il cinema deve essere fatto solo da persone pronte a sferrare questo genere di attacco. Cosa è successo nel mondo dopo la guerra e il dopoguerra? La normalità. Già, la normalità. Nello stato della normalità non ci si guarda intorno. Tutto intorno si presenta come normale, privo della eccitazione e dell'emozione degli anni di emergenza. L'uomo tende ad addormentarsi nella propria normalità, si dimentica di riflettersi, perde l'abitudine di giudicarsi, non sa più chiedersi chi è. È allora che va creato artificialmente lo stato di emergenza. A crearlo ci pensano i poeti. I poeti, questi eterni indignati, questi campioni della rabbia intellettuale, della furia filosofica. Insomma, uno sembra essere la prosecuzione dell'altro in una volontà unica, che è la volontà del cinema, degli eccessi, e di ciò che voglio fare e farvi fare io. Di svegliarvi dal torpore del cinema di cassetta, ma anche di riuscire a percepire la realtà attraverso il linguaggio cinematografico, di conoscere la rabbia dell'artista, che è anche la nostra rabbia, furia filosofica, che non ha bisogno di studi filosofici, solo di una voglia di ampliare i propri confini, di farsi conoscenza, fame d'arte e di comprensione dell'animo umano. L'estremo, l'eccesso, dovevano destare, e in un senso estetico, totalmente opposto al Deus Ex Machina dell'eccesso, il Salosad, per dirla alla Carmelo Bene di Pasolini. Artubiagad si propone come esempio massimo di questo mio e nostro pensiero, perché crea e distrugge lo sguardo, lo porta al limite massimo fino allo sfinimento percettivo e concettuale. È difficile essere un dio, è difficile essere un artista, è difficile salvare l'arte. Siamo destinati all'ignoranza, all'avacuità. Il cinema è morto, viva il cinema. E detto questo, torniamo anche noi al lato più superficiale, il giardro di cinema degli eccessi, la scheda e tutte quelle cose annesse. Se ti è piaciuto Artubiagad, fatti curare, oppure devi assolutamente guardare Lettere di un uomo morto di Konstantin Lopuchansky, altro capolavoro della vita, Andrei Rublev, ovviamente, di Tarkovsky, altro capolavoro della vita e Fairy Tail di Aleksandr Sokhorov, altro ancora capolavoro della vita. Visti questi nomi, chi non ha visto Artubiagad forse inizierà a comprendere di fronte a quale opera ci troviamo davanti. E giungiamo alla scheda del film. Pudella, 1 su 5, non è quello su cui punta il film. Violenza psicologica, 5 su 5. Insostenibile. Marciume, 5 su 5, lercio fino allo sfinimento. Weird, pure 5 su 5, tra i film più strani che vi capiterà di vedere. E Trash, ma facciamo un 2 su 5 per le scoreggie, via. L'eccessometro per Artubiagad segna un 80% pieno, sconvolgente per forma e contenuto, ma visivamente non è disturbante come altre opere che abbiamo visto. E con questo vi saluto, bella regà, che il cinema sia con voi. Nella prossima puntata di Cinema degli Eccessi. Kubrick ha copiato questo film un triangolo erotico criminale tra Eddie, giovane travestito, Leda, proprietario di un gay bar e un uomo misterioso. Una ricontestualizzazione hippie e giapponese dell'Edipo Re.